L'esperienza di guida della 500 elettrica è stata entusiasmante, all'auto elettrica così come prestazioni, come piacere, come facilità di guida direi che non manca assolutamente nulla e quindi andiamo avanti perché può essere veramente un futuro importante per la mobilità a patto che veramente si trasferisca sull'auto elettrica soltanto il concetto di efficienza energetica e non quella di riprodurre gli errori della mobilità del passato e cioè che si identifichi da automobile solo con la potenza. L'elettricità ci fa fare delle cose eccezionali in termini anche di potenza ma la macchina deve veramente essere vista per il futuro solo come un mezzo di trasporto e non come un modo per far vedere quanto si vale.